Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Il nuovo anno della Lidl inizierà con i prodotti della Parkside. Speriamo che con il nuovo anno tutte le cose vengano ripristinate e la fornitura sia diffusa in modo omogeneo a livello nazionale. Questo è il volantino con le uscite comprese fra il 3 gennaio e il 9 gennaio 2022 e dal 5 gennaio 2022 troveremo in vendita alcuni articoli. Quindi mettiamoci sul bancone e vediamo di cosa si tratta. E allora questa è la pagina 28 del volantino e troviamo i nostri utensili della Parkside. In basso sulla sinistra come sempre c'è una nota che ci avvisa che nonostante l'attento approvvigionamento alcuni utensili potrebbero finire prima del previsto. In alto a sinistra troviamo la smerigliatrice angolare da 125 mm a corrente elettrica 24,99€ con il numero di giri regolabile da 3.000 fino a 12.000 al minuto un cavo di alimentazione lungo 3 metri e in dotazione troveremo anche un disco da taglio da 125 mm la chiave per poterlo smontare e due spazzole quindi carboncini di ricambio. Come vedete la chiave è inserita all'interno dell'impugnatura però ovviamente sarà possibile rimuoverla perché così risulta ingombrante. La stessa impugnatura si potrà posizionare sia sulla parte alta che dalla parte opposta. Questo è il tastino spindle lock quindi ci permette di bloccare la rotazione del disco per poterlo smontare e il tasto di accensione è posto nell'impugnatura posteriore. Più in alto invece troviamo la rotellina per la regolazione del numero di giri con una regolazione graduale. Ovviamente è una smerigliatrice adatta sia per i dischi da taglio che per i dischi da sgrosso sia dischi lamellari a tazza eccetera. Per poter utilizzare alcuni tipi di dischi sarà possibile rimuovere una parte un accessorio che è incorporato sulla calotta protettiva. Questo ci permette di rimanere protetti in entrambi i tipi di lavori. Spesso purtroppo su alcune smerigliatrici quando il disco non consente l'inserimento dei dischi lamellari o altri tipi di dischi si ricorreva alla rimozione della protezione e questo rendeva sicuramente pericoloso il lavoro. In questo modo invece abbiamo la possibilità di utilizzare la protezione per i tagli e rimuoverla quando facciamo lavori meno rischiosi. Io possiedo più di una versione di questa smerigliatrice e finora mi sono sempre trovato benissimo. Il costo sarà 24,99€ e avrà una garanzia di 3 anni come tutti gli utensili presenti su questo volantino e come vi dico sempre alcuni utensili potrebbero essere presenti in questo volantino e non nel volantino della vostra città e viceversa voi potreste trovare utensili nei vostri volantini che non saranno presenti su questo. Più in basso invece troviamo l'incisore elettrico ricaricabile si tratta di un incisore a batteria che già vi ho recensito serve ad incidere, disegnare, creare comunque delle figure su diversi tipi di superfici avrà un tasto di avviamento, la regolazione della potenza e sarà ricaricabile tramite cavo USB di questo già vi ho fatto una recensione molto approfondita ho fatto anche un video per quanto riguarda la realizzazione di un'eventuale punta di ricambio nel caso in cui dovesse usurarsi quella che trovate in dotazione quindi vi lascerò direttamente il link per poter vedere quella recensione non approfondirò più di tanto comunque serve ad incidere con la vibrazione sulle superfici nelle quali andiamo a poggiare la punta vibrante e costerà 17,99€ a fianco troviamo il set di chiavi combinate cinque pezzi si tratta di chiavi particolari perché hanno la parte frontale a forchetta e la parte posteriore ad anello ma snodabile e sarà un anello a cricchetto sono chiavi che vi ho già recensito ho fatto un video molto approfondito anche se queste sono versione Powerfix comunque i prodotti Powerfix sono stati rimarchiati Parkside quindi sarà lo stesso utensile come vedete girando in un senso avremo il cricchetto nell'altro senso invece avremo la forza per avvitare ruotando la chiave potremo invertire quindi il senso di rotazione ma vi lascerò anche di questo il link per poter vedere la recensione più in basso invece troviamo un supporto per trapano non per avvitatore per trapano infatti avrà la possibilità tramite questo anello di poter alloggiare il colletto del trapano sarà di circa 43 mm e ci permette di realizzare dei fori praticamente quasi perfettamente perpendicolari alla superficie avrà un'impugnatura laterale tramite queste molle ci permette di dosare anche la forza diciamo che è un valido aiuto nel caso in cui dobbiamo realizzare dei fori il più perpendicolare possibile non abbiamo alternative non abbiamo trapani a colonna eccetera soprattutto nel caso in cui si trovi al centro ad esempio di una tavola che non possiamo assolutamente posizionare su un trapano a colonna e costerà 12,99€ ed è la stessa marca del jig che vi ho già recensito vedete che troveremo la pagina più avanti per realizzare le giunzioni con le spinature più in alto sulla destra invece ci sono dei set con chiavi a bussola questa ve l'ho recensita pure è un set di chiavi a bussola che ci permette di avere questo snodo nella parte frontale quindi ci permette di lavorare con angolazioni particolari vi lascerò il link anche di questa recensione 22,99€ questa invece è un set di chiavi a bussola 65 pezzi 49€ sinceramente non le ho mai recensite e da quello che vedo dall'immagine più che altro un set composto quasi esclusivamente da chiavi a bussola quindi ci sarà un cricchetto una chiave a T solitamente troviamo alcuni inserti differenti in questo caso troviamo delle bussole da una misura molto piccola da una misura molto grande che però non riesco a capire di quale misura si tratti più alcuni piccoli inserti con l'innesto da un quarto di pollice con degli intagli a croce torx eccetera alloggiati all'interno di alcune piccole bussole come queste di qua e quindi ci permettono di utilizzarle con gli accessori che troviamo all'interno di questa valigetta più in basso invece troviamo utensili per meccanica di precisione sono semplicemente dei piccoli cacciaviti di precisione questi sono cacciaviti tipo quelli da orologiaio con la parte posteriore che ruota comodi per smontare per esempio cellulari o tutti quei componenti elettronici con delle piccole viti questo invece è un piccolo cacciavite con un alloggiamento esagonale nel quale vanno inseriti i bit poi dei taglierini un altro piccolo cacciavite una rotellina che ci permette di eseguire dei tagli quindi si preme fu riesce una lama circolare ci permette di eseguire dei tagli per esempio sui tessuti cartone eccetera chiave a brugola chiavi torx questo accessorio non ho capito cosa sia un piccolo cricchetto un cavatappi e poi dei metri non so se siano metri flessibili oppure il metro pieghevole da muratore sulla destra troviamo invece dei set per lucidatura set spazzole o pompa per trapano quindi questi sono dei set che alloggiati nel mandino del trapano ruotando ci permettono di lucidare alcune superfici queste sono delle spazzole che ci permettono sia di lucidare ma soprattutto di rimuovere dello sporco questi invece sono dei set per lucidatura vera e propria quindi per portare a specchio praticamente metallo eccetera questo invece molto comodo si tratta di una pompa per trapano quindi questa parte metallica va alloggiata nel mandino del trapano una volta avviata la rotazione si creerà un vuoto da una parte e spingerà i liquidi quindi acqua eccetera dall'altra parte comodissima per poter svuotare per esempio vasche trasferire i liquidi da un contenitore all'altro eccetera nella pagina successiva troviamo ancora qualche altro utensile quindi un set di sega multiuso 3 in 1 praticamente è un'unica impugnatura che permette di alloggiare diversi tipi di lama quindi possiamo usare il classico segaccio una normale sega europea oppure il seghetto ad arco nella descrizione c'è qualcosa che mi lascia un po' perplesso perché c'è scritto funzione sblocco rapido per passaggio tra seghetto ad arco sega circolare e sega manuale oddio comunque va bene io seghe circolari non ne vedo però abbiamo questi due tipi di seghe classiche più questo seghetto ad arco sulla destra invece la dima per spinatura quindi quello di cui vi ho parlato poco fa anche questo ve l'ho recensito comodissimo funziona bene costerà 8,99 euro considerate che lo stesso sul web si trova a circa 25-30 euro quindi davvero un prodotto valido vi ho dimostrato nel video che funziona bene se lo trovate e vi serve ovviamente non fatevelo scappare perché a questa cifra non lo troverete mai più poi una livella con tre livelli per misurazione di angoli 90-180 gradi e pendenza del 2% sia in orizzontale che in verticale con un gancio per appenderlo e piedino magnetico al costo 7,99 euro non ho mai posseduto questa livella in particolare quindi non posso parlarvene più di tanto però mi sembra un gradino superiore rispetto per esempio al set che costava circa 5 euro all'interno trovavamo tre livelle questa dovrebbe essere costruita un pochettino meglio se riesco la comprerò eventualmente farò una recensione anche di questo prodotto più in basso delle corde multiuso con diverse resistenze di peso da 35-45-60 e 20 kg sulla destra nastro adesivo telato da utilizzare in tutte quelle occasioni nelle quali serva un nastro veramente potente perché oltre alla resistenza del materiale adesivo c'è anche una tela all'interno che contribuisce alla sua resistenza sulla destra invece carrello da trasporto universale sia rettangolare con una superficie di appoggio di 57x29 cm e una superficie di appoggio rotonda da 38 cm di diametro quindi è possibile posizionare sulla superficie un qualunque oggetto che abbia un peso massimo di 250 kg e poi spostarlo indipendentemente dalla posizione delle ruote un po' come i carrelli di supermercati le ruote piroettanti ci permettono di spostarci in ogni direzione sono davvero ben fatti l'unica nota negativa che le ruote non sono gommate quindi in base alla superficie sulla quale dobbiamo spingere l'eventuale peso di 250 kg se si tratta per esempio di pavimenti delicati si rischia di lasciare dei segni fossero stati gommati sicuramente sarebbe stato meglio ma 9,99€ effettivamente ci costa una coppia di queste ruote solitamente quindi il prezzo comunque è conveniente più in basso invece la pistola spara punti quindi la graffettatrice manuale anche di questa vi ho fatto una recensione molto comoda perché ci permette di sparare sia i chiodi le graffette quadrate oppure le graffette AU che ci permettono anche di fissare i cavi elettrici di questa vi ho fatto una recensione molto approfondita con diversi test e diversi esperimenti funziona bene e il prezzo è molto conveniente poi nel link che trovate nella descrizione dei vari video vi lascio tutti i link appunto per poter acquistare gli accessori che eventualmente sarebbero difficili da trovare e abbiamo finito con il volantino del 5 gennaio 2022 vi invito se prendete il volantino nella vostra città a scrivere nei commenti quali sono gli utensili che avete trovato nei vostri volantini e che non sono presenti su questo oppure cosa è presente su questo e non l'avete trovato sul vostro volantino specificando anche la città in modo da aiutare chiunque guardi il video e capire cosa può trovare nel proprio punto vendita detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da Riccardo e a presto